In vista del test match contro l'Argentina sabato a Verona, il centroala Mirko Bergamasco parla di come gli azzurri si stanno preparando all'incontro. Noi stiamo lavorando duro da tutti i punti di vista, cercando di migliorare già quello che in passato abbiamo fatto, sperando ovviamente di trovare le chiavi giuste per rimettere in difficoltà e riuscire a portare a casa la partita. È una squadra che crea molti problemi perché ama giocare, è molto molto aggressiva, quindi sarà importante per noi essere più aggressivi di loro e mantenere il possesso del pallone. Più avremo il pallone meno ce l'avranno loro, quindi di conseguenza avremo più possibilità di poter segnare punti. Ovviamente stiamo lavorando veramente duro e la cosa importante è che siamo consapevoli che le possibilità e le armi ce le abbiamo e bisogna sfruttarle al massimo.